Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di YouTuber's Life Ragazzi, un gioco veramente particolare Allora, cosa dobbiamo andare a fare? Watch me play, ok, l'abbiamo fatto The friend of my friends, ancora lo dobbiamo fare Che ci dice You are so outgoing to making a certain amount of friends easy for you Va bene, questo poi lo faremo E poi vediamo che il nostro Fabulous Bowling sta crescendo di visualizzazione in modo esponenziale ancora ragazzi Abbiamo il suono che sta bene e il cibo non tanto Allora, io direi di andare a mangiare Perfetto E voglio vedere anche come si fa ad andare, non mi ricordo alla cosa, alla fiera Go to convention, ora ci andremo sicuramente alla convention Allora, come si fa ad andare alla convention? Jet 100 e confirmo your assistance to the event Quindi dobbiamo arrivare a 100 dollari ragazzi, ad averne 100 Ne abbiamo 81 Quindi dopo mangiato facciamo un lavoretto che ci porta a 100 dollari circa ragazzi E guardare come cresce quel Fabulous Bowling Lasciamolo farmare o 4 o 5 dollari così le cattiveria Allora, io direi di fare work Così mamma è pure contenta Ok 4 ore, wash car Così 20 euro Politi, anzi 20 dollari ragazzi Allora, lasciate immediatamente 200 like per questo video Mi raccomando ragazzi, fatemi capire che vi piace Perché ho visto che vi interessa tantissimo Ok Ci dice che il nuovo gioco di trend sta andando Io devo andare alla convention però ragazzi Mamma mi sa che è incazzata Arca zozza, non abbiamo studiato, vero? Mi sa di no Mi sa che non abbiamo studiato, vero? Vediamo un po' cosa ci dice Questi sono i nostri friends che dovremmo fare La data del test è lì vicino E noi siamo lì lì Meh, me Allora, game world now Che cos'è? Allora, ah questa è il ticket di esperienza Perfetto L'abbiamo comprato Siamo rimasti a pochissimi soldi Quindi abbiamo confermato la nostra presenza alla convention ragazzi Ok, allora Visto che mamma si è incazzata Io direi facciamo una studiata Tanto il video continua a crescere Ha rallentato un pochino come vedete, vedi? Quindi sarebbe già il caso di cominciare a pensare a fare un altro video Perché alla fine è sempre quello Quando il primo si tranquillizza Sarebbe il caso di cominciare Stai perdendo iscritti? Oh cavolo, perché non abbiamo portato nessun altro video? Ok, il sonno ancora sta bene Io direi di andare a fare un nuovo gioco Very well, you have just wanted a time point Every time you increase a odd delivery you win a point Ok Possiamo farlo per migliorare e trovare nuovi punti E nuove tipologie di video Ok Allora Diamo un po' cosa possiamo fare Abbiamo 7 dollari e 80 Non abbiamo niente Ok, finalmente abbiamo questi punti che possono essere spesi Allora a noi ci interessa più che nel dialogo Nell'altro Più che altro nel gameplay Diamo un po' Platforming, Raising, Sport, Sandbox, Puzzle and Social Game Il 10% more like E questo ci potrebbe essere comodo Perché i like fanno sempre effetto ragazzi Allora, ok Andiamo a fare sicuramente un giochino E ci serve fare un video perché se no so guai Allora, vediamo qual è di trend Fabulous Bowling ancora va di trend E la è League of Junt Visto che dobbiamo portare un po' di diversità nel canale Io preferirei utilizzare League of Junt Posso fare ancora soltanto gameplay perché bisogna sbloccarli gli altri Quindi facciamo un bel gameplay di League of Junt Allora, non posso fare ancora upgrade di altro Perché queste sono le risoluzioni appunto che abbiamo della webcam Il filtro non ce l'abbiamo Monodirectional è sempre lo stesso Abbiamo 11 punti di rendering come sempre Ok, io direi di fare un bel continuo E lo chiamiamo Ehm Non lo so Ehm I giganti Colpiscono ancora Anche se non sappiamo bene come funziona questo gioco Ok, due punti perché ci sta Next Ok, ci siamo messi al computer a registrare ragazzi Ok Questa è la nostra registrazione Recording Gli mettiamo questo effetto wave Perfetto Qui ci andiamo a mettere l'effetto migliore Quale ci andiamo a mettere? Questo qua Un commento cantato Almeno siamo un po' più simpatici E facciamo punti Ok Qui dobbiamo mettere una transizione off topic comment Quindi esterno E stiamo registrando veramente bene Next Abbiamo usato diversi punticini Allora Io direi di Andare a mettere un titolo sicuramente Di mettere Le nostre clip fatte In modo corretto Ehm I nostri commenti canticchiati E il nostro commento off topic Alla fine del video Così fa quel suo effetto Che ci sta tutto Allora Abbiamo 7 punti utilizzati Quindi abbiamo ancora un po' di punticini Che crescerà Adesso sta in editing e rendering Ok Io direi di fare un'altra bella cosa Abbiamo ancora un po' di vita Quindi facciamo lo studio Così recuperiamo quella cosa di ritardo Che ci avevamo Perché effettivamente È pericoloso Rimanere Così sul limite Perché abbiamo anche una vita Facciamoci amici Qualcuno Allora questi sono dei like Non so che cosa significa Forse sono quelli più adatti a noi Ehm Cosa posso farci Chatto Ma si Chattiamo con qualcuno Facciamoci amicizia Vai Vai Ok New task available Go to convention No no È sempre la stessa Ah non è una task Eccola qua Ehm Ok Online chat l'abbiamo fatta Perfetto E The friend of my friends Allora ci da 3300 esperienza Se Andiamo a A prendere Più amici E Riusciamo a raggiungere Più amicizie Ehm Io direi di Aggiungerlo Tra gli amici E Lo invito a casa Ok Quindi posso invitarlo Perfetto Allora Cibo sta ancora bene La chat sta andando E sta progredendo Come vedo qui Molto rapidamente E Come vedo Promote a video Temporale in crescita The Weevs Come si fa a promuoverlo A soldi ragazzi Come su youtube è vero E come sapete c'è una possibilità Di promuovere il proprio video Su youtube Allora Cominciamo a essere stanchi ragazzi Io direi di Stoppare la chattata Perché abbiamo chattato molto Abbiamo fatto una task Anche adesso Quindi vai così E direi di andare a dormire Un pochino Perché effettivamente Il nostro personaggio È molto stanco ragazzi Quindi gli serve un po' di riposo Vedete la barra si ricarica Il cibo scende Ok Siamo a posto Abbiamo rimesso il letto Cioè non abbiamo neanche Disfatto sto letto Ragazzi Siamo dormiti sopra così Allora io direi Andiamo a mangiucchiare Che ci serve assolutamente Andiamo a vedere Che altro possiamo fare Allora Le viers stanno salendo Vedo qui giù Che sta tutto a posto Qui ci dice Che praticamente The long await game Counter strike Has been released Ok Quindi andiamo a vedere Di fare una lavorata Una bella lavorata Perché non abbiamo lavorato più Di 6 ore Così siamo fuori Tanto il nostro video Sta ancora in crescita No Giganti colpiscono ancora Si è fermato E stazionato a 6.006 Quindi c'è tocca andare A rifare un altro video Abbiamo Una quarantina di dollari Ok 46 dollari E non è male Io vorrei andare A sta maledetta convention Ma non mi ci fa ancora andare Porca miseria Allora Andiamo a fare Un altro Giochino nuovo A request from a friend Ok Allora Hello more Do you record Good video Do you record Gameplay video Subatomic Beautician Che cacchio del gioco è Ok Accettiamo Ci da comunque Un sacco di dollari Ok Ci ha mandato il gioco Quindi ci dovrebbe arrivare A casa Sicuramente Ok Non ce l'ha ancora portato qua Quindi ci vorrà ancora Un pochino Allora Questi 46 dollari Mi li vorrei tenere Ok È arrivato il gioco Perfetto Registriamo immediatamente Questo Perché ci da un sacco Di dollari Ragazzi E noi ci servono I soldini Per upgrade Allora New gaming video Abbiamo il gioco nuovo Che è al 100% Bellissimo Lo stile adventure Bellissimo Subatomic Beautician Ok Io direi Di farci immediatamente Un bellissimo gameplay Così riempiamo Il nostro canale Di cose veramente Di qualità E diverse Abbiamo già un sacco Di sonno Cavolo Perché sono andati A lavorare Una Nuova Serie Ok Vai 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 Crea questo video Dobbiamo riuscire a creare qualcosa Di veramente Figo Ok Allora Siamo qui nel montaggio Mi scuso per prima Ma era successo un po' Un casotto Ok Ci sono Ci sono Vai Montiamo il nostro video E gli andiamo a mettere qualcosa Che ci da un bel po' Di montaggio Perché vogliamo effetti grafici Fighi Ok Vogliamo qualcosa di professionale Un commento professionale Ci sta tutto bene E vai con next Quindi questo gioco dovrà diventare Veramente una cosa Figa Vedo degli scintini nello schermo E ciò mi preoccupa Allora Dobbiamo aggiungere un titolo Perché il titolo va sempre messo Mettere tutte le nostre priorità Questa E tre due Queste sono uguali Quindi non cambia molto E sempre un bel soft focus Questa volta Perché grid color Magari si fa per cose un po' più Semplici Ok Ci mancano due rendering point E ci vogliono 11 ore di editing Però guardate come vengono bene di qualità Ragazzi Un po' meno qualità dell'altra volta Forse era meglio l'altro Che il soft focus Però abbiamo aumentato Script e acting E pure video editing GG Post production Si Level up Il sound un po' meno Due volte quasi e mezzo Porca miseria Dobbiamo sto video Abbiamo il computer Che ha qualche problema Ragazzi Mi sa che i soldi Che ci daranno Per sto gioco Li dovremmo spendere Sul computer Infatti repair Perché ha poca vita Ok Quindi lo facciamo riparare Ragazzi Come si fa a ripararlo È arrivato il tecnico a casa Che figata Ragazzi Il tecnico sta riparando Il nostro computer Guardate È qualcosa di geniale Questo gioco Ok Allora ragazzi Per vedere i risultati Di sub Atomic Lasciate 200 mi piace Qua sotto Nella prossima puntata Vedremo come è andato Il nostro video Ok Vi sta facendo l'appload Adesso Ci vuole un po' Quindi ragazzi Lasciate tanti pollicioni Condividete il video Iscrivetevi al canale Abbiamo cercato di arrivare Alla convention Non ci siamo ancora riusciti Sicuramente nella prossima puntata E lasciate il video Tra i miei preferiti E ci vediamo Alla prossima puntata Alla prossima puntata